Prosegue lo screening dell'ex assessore Franco Fracassa su quanto accade in termini di ricostruzione nelle zone del cratere, soprattutto quanto accade nell'ambito dell'ufficio speciale per la ricostruzione. In 15 giorni o poco più c'è una differenza intanto tra ciò che si è fatto nelle Marche e ciò che si è fatto in Abruzzo. Qual è la differenza? Allora la differenza è come appunto stavi dicendo in 17 giorni, a Scolipiceno passa da 75 cantieri a 101, macerata da 115 a 127, quindi in 17 giorni c'è stato un incremento di 33 cantieri nelle Marche. Invece in Abruzzo ne abbiamo sempre due e solo due. Io ho preciso che utilizzo per fare tutto ciò i siti messi a disposizione da questi due uffici che dovrebbe essere la trasparenza amministrativa, quindi questi e quelli che risultano sui siti e di conseguenza noi notiamo che il cratere marchigiano prosegue e prosegue speditamente e invece il nostro è fermo al palo. Potrebbe tuttavia non essere trasparente il sito che riguarda la zona del cratere dell'Abruzzo? Una cosa è certa, in quello del marchigiano noi troviamo tutte le pratiche e quindi ognuno può seguire la propria pratica col proprio protocollo. Sul nostro le pratiche non sono riportate, su questo non ci sono dubbi e vengono riportate solamente le due pratiche che sono arrivate a decreto. Ma in termini economici quali sono le conseguenze di queste due diversità di trattamento? Guardi, glielo porto a numeri perché mi sono fatto due conti riprendendo sempre quando ho riportato sul sito. Le dico la somma totale, nel cratere marchigiano superiamo i 34 milioni di euro che si stanno movimentando nei crateri. A differenza dell'Abruzzo che ha solamente 227 mila euro, quindi potete immaginare che la differenza è sostanziale. Le imprese marchigiane stanno lavorando, i libri professionisti marchigiani stanno lavorando, il territorio vi è un'economicità importante di 34 milioni e 35 milioni contro i 227 mila euro. Anzi, voglio essere preciso, 227 mila 849 euro. Quanto è grave questa cosa? Secondo me è gravissimo perché il territorio sta soffrendo, perché noi non riusciremo mai a raggiungere questi parametri e recuperare questo step. Io mi auguro che chi di dovere intervenga, se questo ufficio ha necessità di avere più personale, se questo ufficio ha necessità di avere dei cambiamenti, degli aiuti, bene, benvengano, anche i comuni possono aiutare, però bisogna muoversi.